Nonostante che sia stato l'anticipo e che quindi abbia già due giorni, la partita della quale ancora più si parla è il derby d'Italia Inter-Juventus. Sono con un gobbodoc che... Juventus-Inter. Ho detto Inter-Juventus siccome ha vinto l'Inter. No, no, te l'hai detto Inter-Juventus perché ti caccio se capisci come te devo dire, trigonometria. Io lo capisco perché essendo della Juve lui e io della Fiorentina capite che qualche motivo... Di scontro c'è, esatto. No, assolutamente, anche perché la Fiorentina quando c'è Montella a me sta simpaticissimo. Oh, siccome Stefano... Le squadre le fanno gli uomini. Ma noi siamo qui non per parlare di belle partite tipo quelle della Fiorentina ma per parlare di calci nel sedere. Stefano Brandini di calci nel sedere ne ha da dare ogni settimana. Sì, allora il primo calcio nel sedere lo prende la Juventus. I segnali di stanchezza li aveva già dati. E allora la domanda è questa, perché non accontentarsi del pareggio contro un Inter che indubbiamente ha dimostrato sul campo di essere molto più in forma se non altro da un punto di vista fisico. È vero che la squadra di Conte è stata condizionata da dei cambi forzati perché nessuno pensava di dover togliere Vucinic dopo così poco tempo e soprattutto di dover essere costritto a togliere Ulrich Steiner che è stato veramente graziato. Credo che alla fine però sia una sconfitta che riporta anche un po' di giustizia. La Juve ultimamente non per colpe sue o per mafia o per quant'altro. Leggo stamattina l'articolo di Moratti che dice che il battaglia Venta è sbagliato apposta. Ecco, Moratti probabilmente non crescerà mai da questo punto di vista. Se anche vincendo e convincendo come ha fatto a Torino si lascia andare a delle polemiche. Sbaglia, insomma, ha vinto, chiuso. Anche perché se è vero che l'errore grave su Ulrich Steiner è un errore imperdonabile perché lì insomma c'è sotto l'occhio un giocatore che fa un fallo, un secondo fallo d'ammunizione. La rete dell'1-0 dopo 18 secondi è fuori gioco ma si è capito dopo 18 movioli, voglio dire. Quindi ci può stare e secondo me oltretutto quella posizione 20 centimetri più dentro che sarebbe stato non fuori gioco non avrebbe cambiato niente. C'era proprio una posizione messa male della difesa. Quindi bisogna ripartire col calcio. Comunque è una sconfitta che ha portato giustizia, ha spento ogni polemica, ha riportato sulla terra la Juventus dopo 49 partiti ci stava. Se la squadra a testa è motivo anzi di recuperare energie mentali perché alla fin fine poi quando devi continuare a combattere contro i primati diventa che la gara è contro il primato non contro l'avversario. Quindi a questo punto è andata, una sconfitta doveva capitare? È capitata. Certamente non doveva capitare con l'Inter che è l'avversario e il nemico storico però un Inter... Se fosse capitata nel derby prossimo sarebbe stato peggio col Torino. Poi vuol dire, ora parte tutto, detto che Stramaccione è un predestinato, detto che ha dimostrato di essere un barrenatore anche se poi c'è un calcino nel sedere anche per lui. Ma vuol dire, non dimentichiamo che l'Inter è una grande squadra. Andano invece importa, Samuel, Ranocchia, Cambiasso, Zanetti. Secondo me l'attacco dell'Inter non ce l'ha nessuno. In Italia sicuramente tra i primi tre in Europa perché voglio dire Palazzo, Milito e Cassano non è che si regalano. Se la Juve al quale manca un terminale offensivo avesse uno tra Palazzo e Milito probabilmente oggi parleremo di un campionato quasi finito. Se pensiamo a quanti errori fa davanti la Juventus proprio perché gli manca un top player. Secondo me da Geometra alla Juventus gli manca anche Conte in panchina. Ma probabilmente sì, ma ormai Conte arriva. Perché le decisioni immediate le prende Conte. Ma ormai Conte arriva, ripeto, sicuramente sabato sera avrebbe giocato Pogba perché c'è un Marchisio che è fuori condizione. Sarebbe sicuramente entrato un altro giocatore. Probabilmente avremmo giocato la partita anche per portare via un punto che sarebbe stato un punto d'oro. Però insomma è andata. Il secondo calcio nel sedere alla Juventus è un calcio nel sedere per come è andata la partita. Ma soprattutto ha qualche interprete tipo lo Svizzero che ha determinato un cambio forzato. Però è andata e la statistica alla fine doveva dire che la Juve prima o poi perdeva. Il secondo calcio nel sedere è proprio lo Stramaccioni perché ha un futuro davanti. È un predestinato. Ha dimostrato di essere una persona molto intelligente. È un Carpe Diem che ha colto l'attimo in un momento di vuoto e si è impossessato dalla panchina dell'Inter. E con il tempo ha dimostrato di meritarsela in pieno. Però se ancora c'è la fine dell'antipasto, già ordina il dolce e quindi già coi toni ci vuole rispetto. Stramaccioni ha 36 anni, deve stare tranquillo, ha vinto meritatamente, quindi ci vuole rispetto. Nessuno non lo rispetta. Spenseratezza tattica. Moratti vedo che qui è diventato un professore e dice che ha una insignità e ha un altro significato. Spenseratezza vuol dire felicità, vuol dire sentirsi poca pressione addosso nel calcio. O può anche voler dire una certa predisposizione ad attaccare. Tant'è vero che Marotta ha detto che l'Inter gioca con una certa spenseratezza tecnica in avanti, ma noi siamo pronti anche a questo tipo di venienza. Non mi sembra che abbia offeso nessuno. Quindi abbassi i toni, stia tranquillo, perché se si fa prevalere dalla presunzione rischia di rovinare quello di buono che sta facendo. E che è tanto, perché è veramente un bravo allenatore. L'ultimo calcio del sedere lo prende Mazzari e il Napoli perché dopo l'ennesimo passo falso contro il Torino, e credo che se lo meriti, questa squadra costruita per fare qualcosa di buono rischia di arrivare anche quest'anno a Roma e non vedere il Papa. Poco importa se poi alla fine il pareggio del Torino è arrivato in piena zona recupero grazie al regalo di Aronica, ma la differenza tecnica tra queste due squadre doveva dire che il Napoli doveva aver già messo il risultato al sicuro già molto da prima. Ha fatto mea colpa anche lui. Sì, sì, ma il Torino tra l'altro, secondo me, ho visto la partita per i limiti tecnici che ha per tutto, più volte aveva sfiorato il pareggio. Quindi alla fine non è un punto che si porta a casa meditatamente. Un grande ridimensionamento per un allenatore che già dice in anno sabbatico o meno. Io capisco le pressioni tutte, ma figuriamoci gli esodati o quelli che sono a casa integrazione all'ingotto. Insomma, quindi bisogna anche qui misurare le parole. Se poi c'è la giornata in cui non ci sentiamo di misurarsi, per esempio io con il mio carattere sarei uno che mi capiterebbe spesso, si trova una scusa. Si dice che si manda a conferenza stampa al direttore sportivo. Però bisogna, quando persone a questo livello devono sapere che ogni parola che dicono è un macigno. E quindi devono rendersi conto che si rivolgono a una platea di tifosi che in Italia è vastissima e che può interpretare le parole ognuna a modo suo. Quindi vanno dosati. Uno che in effetti, al di là di quello che sembra esteriormente, capisce il calcio. Simpatico, preparato, intelligente. Ma ora basta parlare di me. Ma di anche bellino. Basta parlare di me. Salutiamo Stefano Brandini. Io non ho capito perché la mattina feco l'azione con l'aglio e poi si deve parlare sempre così. Sono cinque minuti le supplici. Arrivederci a tutti. È finita anche questa settimana. Ciao.